Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. L'interrogazione è molto semplice. Sostanzialmente noi interroghiamo la Giunta riguardo a quello che è la legge 14 febbraio 2018 numero 1. In particolare noi chiediamo per quale motivo non è stata mai trasmessa all'Assemblea legislativa per la sua approvazione, come previsto all'articolo 7 della legge in questione, la programmazione annuale delle attività previste all'articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 2018. numero 1 che è la legge che riguarda il sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente, la promozione dell'occupazione, l'istituzione dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. Sostanzialmente vorremmo conoscere quando sono le motivazioni per cui non è pervenuta mai in aula questa relazione. Grazie. Assessore Fioroni. Cerco di fare un cappello relativamente a quello che è l'evoluzione nell'ambito delle politiche attive del lavoro e del ruolo di Alpal. partendo dal presupposto che la nuova norma regionale prevedeva la necessità per l'attuazione del piano di finanziare quelli che erano alcuni ambiti di intervento e concretamente quegli ambiti di intervento hanno ricevuto finanziamento solo parzialmente con trasferimento di risorse a novembre del 2019 e con trasferimento da parte della regione ad Arpal nel dicembre del 2020. Era anche necessario la stipula di una serie di convenzioni che non hanno consentito le risorse necessarie. Su questo però ritengo che sia utile aprire il ragionamento relativamente a quello che sono il ruolo di Arpal nella misura in cui nel momento in cui è subentrata la nuova giunta è stato anche opportuno ridisegnare quelli che erano il perimetro di Arpal in modo particolare sui temi delle politiche attive del lavoro, della necessità di implementare tutta l'attuazione del reddito di cittadinanza che prevede anche finanziamento da parte del governo di circa 9 milioni e mezzo di risorse da investire in investimenti sia per immobili che infrastrutture digitali e in modo particolare noi riteniamo che sia centrale una revisione sia del sistema delle politiche attive sul versante delle formazioni ma anche sul versante del mercato del lavoro. Riteniamo infatti che ad esempio sul versante della formazione la politica soprattutto legata ai voucher abbia troppo rincorso le necessità delle persone a volte anche dei centri formativi e poco valutato la necessità di domanda di profili di competenze presenti sul mercato. Quindi spesso sono stati finanziati corsi che in realtà grandi sbocchi sul mercato non lo consentivano e il sistema imprenditoriale faticava a trovare professionalità che invece erano richieste. Sul versante dei centri dell'impiego anche in questo caso ma sono due elementi correlate è molto importante migliorare l'efficacia dell'azione dei centri dell'impiego cercando di migliorare anche la complementarità dei centri dell'impiego con le agenzie private di collocamento e cercando soprattutto di mettere insieme con una maggiore efficacia le esigenze dei profili professionali con le attività formative. Quindi il tema sicuramente della mancanza della presentazione del piano c'ho la risposta ma magari poi con tutti i dettagli normativi cerco di dare una risposta anche però su quelle che sono le tematiche è un tema di finanziamento quindi per l'attuazione di quel piano mancava una condizione fondamentale che erano le risorse per finanziare alcune di quelle azioni previste dalla legge finanziamento che è avvenuto proprio verso la fine del 2019 con trasferimento alla regione nel dicembre del 2020. Tecnicamente leggo il quanto preparato dagli uffici da un punto di vista tecnico e normativo alcuni organi processi che la nuova norma regionale definisce non risultano ancora operativi tenuto conto della sua transatorietà e del fatto che il detto programma prevede il rifinanziamento per il 2018 di attività oggetto del precedente programma 2016-2017. Si ritiene che l'iter di approvazione possa essere quello previsto dalla legge 2003 al pari delle altre norme abrogate dalla legge regionale 2018 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi non conclusi all'entrata in vigore della nuova normativa. Quindi è per questa motivazione che il programma 2018 non ha seguito il percorso disegnato dalla nuova norma trattandosi appunto di un programma stralcio che proseguiva quanto già programmato dalla precedente giunta regionale questo da un punto di vista però sostanziale ci ha consentito in questa fase di rivedere e di lavorare stiamo lavorando in maniera importante sul ruolo che ARPA lavrà tenendo conto che in questo momento chiaramente va da sé che gli uffici regionali, gli uffici di ARPA sono stati molto impegnati sia per l'emergenza della cassa integrazione dove fortunatamente sono stati finiti gli inviedi delle decretazioni oltre tre settimane fa all'Inps però anche alcune risorse sono state vincolate per sostenere l'eventuale incapacità delle risorse estantate del Governo di soddisfare l'intero bisogno della cassa integrazione Assessore, Consigliere Nicchi Allora ringrazio per la puntuale precisazione rispetto a quanto detto e mi ritengo soddisfatto per quanto appunto detto in interrogazione Grazie Oggetto numero 6 Risponde l'assessore Coletto sull'ex ospedale Carali Gualdo Tadino interroga Consigliere Bettarelli Grazie Presidente Parto con una premessa nel merito nel senso che questa è una interrogazione che era stata calendarizzata per il Consiglio quindi era l'ordine del giorno del Consiglio del 10 marzo Oggi siamo al 26 di maggio l'impegno che si era preso a questa Assemblea Presidente e Vicepresidenti era quello di avere risposta scritta all'interrogazione portata al Consiglio del 10 marzo mi sono trovato costretto a ripresentare l'interrogazione perché io la risposta scritta a fronte di quel Consiglio del 10 marzo non l'ho mai ricevuta lo dico, lo segnalo è un dato di fatto non faccio assolutamente polemica ma Presidente le segnalo che c'eravamo lasciati il 10 marzo in cui giustamente non avevamo affrontato le interrogazioni perché c'erano problemi molto cogenti, molto urgenti con un accordo di questa aula l'accordo non è stato rispettato ne parliamo oggi dopo due mesi e mezzo non è un problema visto che comunque vado nel merito insomma è una questione che va avanti anche da diversi anni quindi entrando nel merito della questione fa parecchi anni quindi ecco lo segnalo al Presidente ripeto non vuole essere assolutamente una strumentalizzazione ne parliamo oggi tra l'altro leggo sui giornali che insomma ci sono state anche incontri, evoluzioni quindi immagino da quello che leggo sui giornali positivi, adesso l'assessore ci dirà meglio e quindi ecco la situazione che pongo alla vostra attenzione appunto è quella che poniamo perché insomma non sono l'unico firmatario di questa interrogazione che poniamo alla vostra attenzione fa seguito ad una situazione appunto che va avanti da diversi anni come diceva giustamente il Vice Presidente che conosce molto bene la questione e quindi l'interrogazione che fa seguito anche ad un Consiglio Comunale che c'è stato a Gualdo Tadino il 27 febbraio 2020 in quell'occasione fra l'altro erano presenti insieme a me il Consigliere Porzi, il Consigliere Bori e il Consigliere Fora abbiamo ascoltato anche il dibattito che c'è stato in Consiglio Comunale a Gualdo e quel documento che poi a seguito di questo è stato approvato la situazione ripeto è molto complicata, molto articolata non sto a ricostruirla tutta ma in buona sostanza dal 1 ottobre 2018 con la sostanzialmente chiusura del livello giudiziario c'è la possibilità di poter finalmente procedere rispetto a quello che era il piano di investimenti il programma, la sistemazione, i lavori in merito sulla struttura ex ospedale Calai quindi per arrivare velocemente alla domanda senza girarci troppo intorno insomma visto che comunque è una struttura nevralgica e centrale per quel territorio visto che c'era un impegno per complessivi 2 milioni e mezzo su due annualità quello che chiedo all'amministrazione regionale è sapere se c'è conferma o meno nei bilanci di questo stanziamento e quali sono gli intendimenti in cui l'amministrazione ovviamente con l'ASL, con chi di dovere con il comune, con tutti i soggetti preposti intende procedere per una celere soluzione di una questione che va avanti da tanti troppi anni grazie Assessore Coletto grazie Presidente allora non vorrei tediarvi con tutto l'iter che c'è stato visto e considerato che come diceva il consigliere insomma è abbastanza lungo tortuoso insomma ad oggi non ha sortito ancora nulla ed è per questo che abbiamo deciso come amministrazione, come giunta di dare una svolta a questa situazione incontrando appunto il comune per andare a definire l'iter più rapido ma pur sempre il più corretto di questa situazione che insomma va chiarita l'ex ospedale Calai di Guando Tadino sostanzialmente si tratta di un'operazione che va a razionalizzare quella che è la presenza sul territorio di più ambiti, di più fabbricati andandoli a concentrare su un corpo storico su un fabbricato storico su un corpo unico diciamo su una stecca unica raccogliendo le varie situazioni raccogliendo quelli che sono i vari servizi in un unico ambito questo anche per rendere più facile alla popolazione la gestione territoriale e della sanità va precisata una situazione quelle che sono le valutazioni di due palazzine che sono soprastanti all'ambito, alla stecca storica definiamola così hanno avuto una valutazione nel 2016 da parte dell'Agenzia delle Entrate quello che è stato chiesto durante questa riunione è di rivedere la valutazione e riportarla all'attualità visto considerato che si intende mantenere quello che è l'impegno di riattivare l'ambito del Calai e riportarlo come dire alla piena operatività per il territorio questa è una valutazione che deve essere fatta in considerazione del fatto che la loro aggiunta in 21-10 del 2019 la giunta regionale ha limitato la possibilità di utilizzare i contributi in conto esercizio esclusivamente nel caso in cui sia garantita la salvaguardia dell'equilibrio di gestione come se vince infatti dal piano degli investimenti a corredo del bilancio preventivo economico 2020 l'azienda US Umbria 1 approvato con DGR 13-15 del 27-12-2019 l'azienda US ha previsto distanziare per l'intervento per il piano di valorizzazione dell'ex ospedale Calai di Gualdo Tadino lo straggio funzionale dei lavori di recupero e riqualificazione 1.250.000 per l'anno 2020 1.250.000 per l'anno 2021 per un totale di 2.500.000 a valere sui contributi in conto esercizio ciò significa che va verificata quella che è la situazione economico-finanziaria dell'Ans 1 per fare gli investimenti che sono previsti è chiaro che la rivalutazione e l'attualità delle due palazzine serve a che cosa? a definire quello che sarà l'eventuale entroito dovuto all'alineazione per reinvestire all'interno della ristrutturazione e revisione di quello che è l'ex ospedale Calai questo è il assunto della situazione grazie grazie assessore consigliere Bettarelli non vuole replicare no velocemente per ringraziare l'assessore mi fa piacere che il percorso che ha illustrato mi trova concorde mi auguro che quindi le parole che ci ha detto che condivido siano più presto possibile con ovviamente tempi tecnici delle perizie e quello che servirà siano seguite dai fatti perché credo che il percorso che ci ha illustrato sia centrato e che vada quindi perseguito quanto prima quindi la ringrazio assessore adesso passiamo all'oggetto numero 10 interroga il consigliere Mancini risponde l'assessore Coletto motivazioni che hanno portato l'azienda da USL Umbria 1 a negare l'esistenza di un accordo tra l'azienda stessa e il sindacato sottoscritto in data 5 febbraio 2020 in merito alla visione estinzioni per 32 operatori sanitari buongiorno grazie presidente testualmente assessore in data 23 febbraio 2020 il segretario del sindacato FSI Usai nonché conciliatore dopo essersi accertato tramite l'ASL Umbria 1 del deposito dell'accordo presso l'ispettorato del lavoro ha comunicato a mezzo stampa il raggiungimento del medesimo sulla vestizione e svestizione per 32 operatori sanitari tra l'azienda e il sindacato FSI Usai per il valore complessivo di 121.440 euro tenuto conto che l'accordo è stato raggiunto dopo mesi di trattative sottoscritto da entrambe le parti in data 5 febbraio 2020 considerato che in data 26 febbraio 2020 l'ASL 1 tramite il portale web aziendale ha comunicato che in merito alle notizie diffuse a mezzo stampa sulla questione relativa alla monetizzazione del tempo impiegato dal personale sanitario nella vestizione nessun accordo sindacale o transattivo è stato sottoscritto con il sindacato FSI Usai considerato tuttavia che il segretario regionale del sindacato FSI Usai nonché conciliatore ha provveduto in data 2 marzo 2020 a smentire la dichiarazione dell'azienda ASL 1 pubblicata a mezzo stampa una copia dell'accordo sottoscritto in data 5 febbraio 2020 quindi la interrogo assessore per conoscere le motivazioni che hanno portato l'ASL 1 Umbria a negare l'esistenza di un accordo tra l'azienda stessa il sindacato FSI Usai sottoscritto in data 5 febbraio 2020 in merito alla vestizione e svestizione per 32 operatori sanitari grazie assessore grazie consigliere Mancini do la parola all'assessore Coletto per la risposta grazie presidente la questione oggetto dell'interpellanza trae origine da una richiesta di conciliazione avanzata all'ufficio avvertenze della sigla sindacale FSI Usai in data 21 novembre del 2019 ed assegnata per attività istruttoria l'avvocatura aziendale ex articolo 12 decreto legislativo 165 del 2001 come da procedura in atto in segno all'azienda all'ora diretta dal commissario straordinario dottor Luca Lavazza all'iniziale richiesta si sono succeduti molteplici aggiornamenti a mezzo PEC tra i quali in via esemplificativa quelli del 4 dicembre del 2019 ampiamento sfera ricorrenti nota PEC 19 dicembre del 2019 dell'azienda sanitaria in ordine al necessario coinvolgimento della regione fino a tutte le ulteriori comunicazioni intercorse fino ai primi giorni di febbraio 2020 precisamente tra i 4 già dalla dinamica temporale sopra descritta risulta evidente che non si era più in una fase conciliativa tradizionale altrimenti scaduta ed improcedibile cosa della quale doveva essere a conoscenza del sindacato ma di un'eventuale definizione bonaria dell'avvertenza stessa da aggiornare con apposito accordo formale previo arbitrato lodo delle criticità procedurali venute a creare la sigla è sempre stata aggiornata per le vie brevi o a mezzo chat e per risolvere nel merito alla questione era stato concordato e fissato un appuntamento il giorno 24 febbraio unilateralmente vanificato dal sindacato in direzione aziendale le parti in data 5 febbraio hanno sottoscritto unicamente un'ipotesi di linea guida e nessun accordo vincolante come risulta dall'inciso formale approvato e sottoscritto dalle parti struttorie fermo restando l'autonomo esercizio dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi in ordine alla presente conciliazione la natura giuridica di ipotesi conciliativa di cui la condizione potestativa sottoscritta dalle parti è rammentata al punto 4 della presente emerge chiaramente dal solo tenore letterale delle parole usate nel documento di fatti non a caso nella formulazione istruttoria del documento di lavoro si precisa che l'ipotesi di eventuale accordo dovrà essere inoltrata alla regione prima di una sua sottoscrizione definitiva con noto ufficiale PEC del 19-12-2019 e l'allegazione documentale al sindacato FSI USA era stata notiziata la generale volontà aziendale di definire la fattispecie giuridica in questione senza contenziosi ma con un necessario passaggio regionale e con un'imprescindibile valutazione dei costi in realtà essendo il termine del 12 febbraio 2020 posto nell'ideguida a carico dell'azienda US1 trascorso senza adempimenti effettivi riferiti all'attività istruttoria di trasmissione dei dati indispensabili a qualsivoglia accordo è evidente che tale circostanza comporti oggettivamente o la conclusione negativa per improcedibilità della trattativa in atto o la sua continuazione ma di sicuro e di modo assoluto non la sua conclusione rimanendo il tutto nella fase embrionale di bozza in ultimo a definitiva dimostrazione della natura giuridica di ipotesi conciliativa del testo siglato in fase di trattazione basti l'inciso la presente ipotesi viene sottoscritta in via riservata tra le parti al fine di attualizzare nel tempo i fatti oggetto di interrogazione in data 6.3 2020 è significativo rappresentare quanto segue tutte le ragioni giuridiche sopresposte sono state notificate formalmente l'FI USAE con note il protocollo 46 83 8 e altre le dichiarazioni a mezzo stampa del sindacato FI USAE dal giorno 2 marzo 2020 sono state pubblicamente smentite dell'azienda con pubblicazione ampia e dettagliata sul Corriere dell'Umbria edizione del 6 marzo e del 7 marzo del 2020 risulta formalmente provato che l'ufficio vertenza del sindacato FI USAE ha rivendicato del tutto eronamente o arbitrariamente la natura di un accordo quello che in realtà era solamente un'ipotesi conciliativa altresì violato la regola generale in questo caso pure formalmente sottoscritta della riservatezza delle trattative ed ha anche vantato un inesistente coinvolgimento dell'assessore regionale grazie presidente grazie assessore il consigliere Mancini vuole replicare grazie presidente grazie assessore nella risposta puntuale e analitica del resoconto che in parte diciamo mi vedeva per una lunga attenzione nel mondo sanitario dovuta dalla passata legislatura quindi mi ritengo pienamente soddisfatto tuttavia colgo l'occasione anche di ricordare che situazioni chiaramente vengono dal 2018 quindi in un contesto totalmente diverso dalla giunta attuale il contratto del comparto sanitario sottoscritto nel maggio 2018 dalle due aziende quindi l'ASD1 l'ASD2 e le due aziende ospedaliere hanno ancora non diciamo ancora applicato questa indennità di vestizione ma io assessore lo dico lei per tutta l'aula so che già a cuore questa questione che sta puntualmente seguendo coprendo il ritardo che viene da due anni appunto come ho detto prima del 2018 quindi questa interrogazione sostanzialmente le dà un ulteriore merito per recuperare quanto a un certo punto promesso da chi l'ha preceduta e poi mai mantenuta quindi pertanto mi dichiaro ulteriormente soddisfatto grazie consigliere Mancini oggetto numero 12 risponde l'assessore Coletto interroga il consigliere Bori proposta proattiva ai pazienti covid uguali test screening articorpale per donatore di sangue finalizzate la plasma ferese e il plasma iperimmune sì grazie presidente si collega ai lavori della scorsa settimana dell'aula e alla nostra proposta che è dei primi di aprile che si è rivelata valida noi abbiamo proposto con un'interrogazione scritta l'ipotesi della plasma feresi per produrre plasma iperimmune che si rivela ad oggi ancora l'unica terapia valida per pazienti medio-gravi che evita che questi pazienti procedano verso una patologia più grave quindi evita che pazienti rischino di entrare in terapia intensiva e sappiamo quanto è importante tenere fuori dalle terapie intensive i pazienti positivi al coronavirus quindi abbiamo trattata la scorsa settimana l'interrogazione era del 6 aprile era risposta scritta non è stata data risposta quindi la proponiamo qui in aula in forma orale logicamente il mondo tornerà alla normalità quando ci sarà un vaccino che noi speriamo sia un vaccino diffuso e che auspichiamo che venga anche prodotto in Italia e ci sono ricerche in questo senso solo in quel momento quando ci sarà un vaccino e quando sarà stata fatta una campagna vaccinale il mondo tornerà alla normalità intanto dobbiamo attrezzarci di conseguenza di fronte a questo virus nuovo non ci sono ancora terapie valide sperimentate se non questa che era già stata provata contro altre epidemie non pandemie epidemie di coronavirus penso alla SARS penso alla MERS si era rivelato valido era un'intuizione giusta tanto più che le sperimentazioni sono molto positive sono sperimentazioni a cui contribuisce anche il nostro Ateneo e il nostro sistema sanitario regionale in particolare quella in collaborazione con l'Ateneo di Pisa in cui il professor Menichetti che tra l'altro vive a Perugia e è diciamo in Ateneo di Pisa ad adozione una sperimentazione che si rivela valida cos'è il plasma iperimmune si ottiene rapidamente dai pazienti dai pazienti positivi che si sottopongono a plasma feresi può essere congelato fino a due anni e contiene gli anticorpi per combattere il virus che possono essere donati come facciamo a riempire il più possibile le nostre emoteche di queste sacche di plasma iperimmune noi proponiamo due strategie e sentiremo ora cosa ne pensa la giunta regionale le nostre due strategie sono uno screening di tutti i donatori abituali di sangue quindi chi normalmente va a donare il sangue gli si può verificare dal prelievo iniziale che viene normalmente fatto insieme ad altre patologie se ha avuto il covid e in questo modo gli si può proporre se vuole di donare invece del sangue il plasma oppure se faceva normalmente la plasma feresi di donare questo plasma iperimmune quindi la prima è lo screening dei donatori abituali di sangue la seconda è andare dai pazienti guariti in Umbria sono tanti per fortuna andare dai pazienti guariti in maniera proattiva e dirgli se vogliono donare il plasma queste sono due strategie semplici con 40 minuti di seduta si può dare una risposta terapeutica efficace a un virus che era sconosciuto grazie assessore coletto grazie presidente dividerei la risposta in due parti il percorso regionale di selezione e produzione del plasma iperimmune da donatori donatori pazienti naturalmente guarite infezioni covid-19 attualmente in piena attuazione la regione ha comunicato l'avvio dell'esperimentazione legata al progetto tsunami attraverso un comunicato informativo alla popolazione e lo stesso è stato fatto anche alle associazioni dei donatori di sangue attraverso una mail ai loro iscritti consentendo di risolvere appunto le problematiche legate alla privacy in data 18.05 è iniziata la selezione dei candidati donatori che già dalla prima settimana ha dato un grande segnale di attenzione e disponibilità in una sola settimana sono circa 120 le adesioni da mercoledì 27.05 inizieranno le procedure a ferretriche per la raccolta e la produzione e stoccaggio del plasma iperimmune sui primi 4 donatori selezionati su 20 esaminati è da ricordare la complessità di selezione in ordine alla presenza di anticorpi neutralizzanti la seconda sezione una recente circolare della direzione generale della prevenzione sanitaria della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sul tema covid-19 test di screening e diagnostici il protocollo della lettera 016 106 del 95 2020 e successive stabilisce che i test sireologici anti-sars covid-2 allo stato delle attuali conoscenze possono essere utilizzati nella ricerca e la valutazione epidemiologica della circolazione virale indicandone l'utilità come strumento ma anche la lacunosità in ordine della capacità di fornire informazioni circa la presenza di anticorpi neutralizzanti e della stessa persistenza degli anticorpi a lungo termine ed inoltre dispone anche che la positività di un test anticorpale deva seguire un test molecolare l'impatto dei test sireologici sulla sicurezza trasfusionale non c'è nessuna evidenza appunto di trasmissione per via trasfusionale normativa vigente non prevede test sireologici di ricerca degli anticorpi SARS-CoV-2 le possibili problematiche connesse alla partecipazione di donatori di sangue a studi epidemiologici la struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali sta avendo in queste ultime settimane stretti contatti con appunto la struttura di ricerca di altre regioni e con il centro nazionale sangue in ordine alla possibilità di introdurre tale test su campioni raccolti in concomitanza della donazione il dibattito sull'utilizzo di tali test è in corso non senza problemi che si sintetizzano nel rilevamento degli anticorpi richiede comunque di intraprendere l'iter diagnostico basato sull'esecuzione della ricerca di RNA virale attraverso il tampone nasofaringeo in attesa della conclusione di detto iter si applicerebbe a donazione venuta la sospensione temporanea del donatore di almeno 14 giorni la segregazione delle unità donate sino all'esito del test molecolare basato su tampone nasofaringeo questo potrebbe avere un impatto negativo sull'autosufficienza degli emocomponenti labili piastrine che hanno scadenza di 5 giorni l'elemento positivo rappresentato dal fatto che l'esecuzione del test comunque potrebbe essere potrebbe essere una possibilità di incrementare il numero di soggetti da sottoporre a procedure di produzione di plasma iperimmune al fine della creazione di una banca ciò detto è intenzione della regione dell'Umbria come dire utilizzare questi test dei donatori visto considerato che si sta perfezionando un accordo con tutti quanti i donatori dell'Umbria per come dire implementare ulteriormente quella che è la possibilità di avere donatori di plasma iperimmune e costituire una vera e propria banca che possa essere utilizzata speriamo mai ma nel caso si dovesse ripresentare un ulteriore ci auguriamo sia un'epidemia non una pandemia per curare questi pazienti visto considerato che come si diceva è una possibilità di cura importante che non ha reazioni o esiti negativi ad oggi non ne sono stati riscontrati quindi in futuro si attiverà questa situazione naturalmente dovrà essere perfezionata visto considerato che una volta verificata la positività agli IgG dovrà essere classificata in laboratorio di Pisa quella che è la presenza degli anticorpi neutralizzanti ad oggi in attesa che lo si faccia anche in azienda ospedaliera universitaria qui a Perugia grazie consigliere Bori si rapidamente colgo l'occasione per suggerire dato che c'è una quota di pazienti che sono già disponibili perché già sappiamo essere guariti che sono i pazienti positivi io inizierei con la richiesta proattiva cioè le ASL in maniera proattiva anche tramite medici di base possono suggerire ai mille passa pazienti guariti in Umbria di sottoporsi alla plasmaferesi perché per loro non c'è bisogno di fare il processo dei tamponi e la sospensione di 14 giorni sono già guariti già possono donare se di questi mille iniziamo anche con una quota la donazione di plasma fresco e quindi per immune già potremmo riuscire a accumulare delle riserve in secondo luogo io suggerisco l'introduzione di questo test che funge anche da screening per i donatori di sangue perché dal mio punto di vista anche se potrebbe allungare in parte le procedure dato che c'è una sintomaticità del 20% penso che sia utile anche per avere un quadro della popolazione oltre che per proporgli la plasmaferesi per il plasma iperimmune grazie 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 a tutti